Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor Ok proviamo Dobbiamo uccidere Ioni Qua devo ottenere R1 per prendere le cose Mi ha mancato Ok Devo dirvi che il gioco in sé non è male L'unica pecca che posso dire è che ci sono i movimenti che sono un po' troppo... Lenti Cioè per fare un gioco così dovrebbe essere molto più intuitivo e veloce il sistema di comando Dal mio punto di vista, nella mia ignoranza Non lo so, è bellino come gioco ragazzi Cioè non mi sento di sconsigliarvelo Perché comunque Di questo genere Nel panorama PlayStation e Xbox Non ce ne sono Cioè c'è uno scale bound in arrivo per Xbox che può essere la risposta A Monster Hunter sulla One Ma questo E' una valida alternativa Poi ovviamente Dipende da Da voi se Volete provarlo o no Per dare una possibilità Magari può piacervi Ma ecco devo far fuori questo Perfetto I vermoni con la testa girante Snake Skin Mi sono ottimale L'errore E' unicidio Perfetto Poi Allora Ma assolutamente La mia visione la faremo nel nuovo video Quindi vi saluto E ci vediamo nel prossimo video ragazzi Alla prossima Grazie a tutti